ci ha messo un botta ad arrivare fai subito prova audio per favore prova audio per favore dove sta il stream? ci siamo testa questo è il massimo testa è io Mario ciao 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 persona pura mi sa che te lo dicono a te chi è? Frank pura? ciao Frank ciao Fleng benvenuti tu Fleng, vabbè, piccolo problema Gabriel, Victorin, Marco Olero, hola chicos allora, se, allora ciao Matteo abbiamo Gabriel, Victorin e Marco Olero intonse non hai streamer spagnoli noi ah 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 Babbi che tale stai, cico? che sei, sto... che darma è? sei il blaster che ti sei la ultima con le blaster che tale stai, cico? mi spero, tutto va bene adesso inizierò a salutare tutti ragazzi perché c'è il computer molto molto lento Frank quindi oggi il mio computer Allora Che abbiamo Perché non muore Super Pro, Sanchez Wolfie, Frank, Gabri Marco Lero, Victorin Gabri, Otrave Super Pro 007 Omar Boom Omar Io Fortnite Solo Gano è il 50 vs 50 Chico, Chico Tienes che comprare Tienes che comprare Crazy Justice No, Fortnite A tomar por cubo Crazy Justice Ciao, Saletta Hallo, Mine Jetzt muss ich beten Dass es innen funziona Ja, hoffentlich The Discord bot Perché non mado a nadie Non ce la faccio Sei solo una bufu A col blaster No, no, no No, no Agarra Non guantano No, no Mato a nadie Non c'è n'una Come se normalmente Ha 6.000 kg No Prima 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 Ah, pure questo Io aspettavo già quelle cose Come sempre Allora, un secondo ragazzi Che c'ho Non mi va Non usare il B Non devo saltare Ma questo c'ho già molte Morte volutina Volevo dire Preselect Asserber Ti riferisco al blaster Perché io Questo blaster è qua Perché l'avemmo scelto Come ultima arma In la light precedente Come si usa questo laser? Li metto qua? No, devo guardare Ah, qua c'è una persona No Non ha reso fetto Come si non avessi fatto niente Yeah, me è morto otra vez Doc 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 Muy bien, chicos Los que se vayan Marco Lero Hasta luego Hola, Marco Almeno si no Può saltar Si va Al paseo Al paseo de gracia Ciao Eleonora Non l'aveva visto Io Stimo Eleonora Tutti gli altri Vai in Splola Splola Oh mio Dio Sploia Toio Ti metto che Non mi chiedere Ti metto che Ti metto che Ti metto che Ti metto che sono inventato a un tempo verbale. Ciao TNBTB, benvenuti. We will accept the friend request in a moment. Oh, that was quick. Ja, cool, Mina. Dann mach doch mit. Oh, no, no, no. E' vero, chiaro. Siamo inamistosa. Io tolto pensando, a ver che mi tocca ora. Oh, venganza del compagnolo. Ele oggi mi hanno pulizata su Minecraft. Il dog mi metteva il cervello e mi uccideva i gatti. E non solo questo, Eleonora. Devi andare in soccorso per saletta veloce. Perché, come non sto io... Oh, no, quello che voglio, no! Oh, mio Dio. Help. Come si può giocare così male? Ma si è rinco dietro? Dove sei andato così veloce? Eh, sta bene. Io sto bene. Grande, Mako. Sono contenta che stai bene. Anche noi. Ai, perché? Buono. Sto bene, ma gioco... De merda. Peggio. Ma io le ho detto di prendere il mago. Di prendere il mago. Io mangio la pasta col tonno. Io mangio la pasta col tonno. E, Luca, ti chiede se hai fatto il video. Luca, non so se hai visto, ma il Jesse è arrivato tardi. Eh, fare il video dobbiamo per forza avere Jessica, almeno fa anche in spagnolo, perché sennò è riservata a 15 persone. Vabbè, io perché vedo le persone? Ok, non è una persona. Non è una persona. Faiere? Grande, Leonardo, ti stimo tantissimo, guarda. Anzi, c'è il ticket in fronte a destra. Per diventare donna del Doc, cioè un distributore di numeri, tu prendi il numerino e... Gli hai detto di non cedere gatti, sai? No, no, è troppo grande. Io stimo e l'onora. I Vittorino e Achilla Switch non l'hanno sprovato, tuttavia. Doc amatarte. Ah, quindi, allora, già entro con un buffo che mi dice, Doc, vuoi amatarte. Entende? Entende? Quindi, se ti chiedi qui, tu? Che dice? Ora è il... Mi pare se che non è... Ah, già! Non è il sonnigoti. Se ne andiamo, spera, che te lo dico. Se ne andiamo, mira. Anzi, si prepara, no? Ora che te davo il controller. Mira, eh. No, perché non ho pensato che stavo con le... Tiene un nome strano, come, non lo so... Grabri-Grab. Grabri-Grab... Grabri-Grab. questo seniamo? questo? gra, gra, DIGA DUGA PROV GAMER, ola se fai anch'io che quando si dice così mi dò un robbio perché? contorce? silenzio, canzone nuova, è vero, è rockera, rock, rock splat e lei il dog vuole conquistarti, poverino di immaginare di te, si, in fondo a destra c'è la macchinetta dispensa di numerini, grabi, grabi, mi ha mattato grabi, cosa dice? dice prega Marco, dice smettila di fare il bugiotto, lo sappiamo che sei un uomo belloso macchina, schimmiattina i borghi, no, passano alle gavoni per la ha problemi con il tuo Handy, anche io sempre con il internet mi ne spiega anche una spiega, o va tutto? è veramente schade mi chiedo domani entro in malattia Dopo quello che mi ha inviato Sara su Instagram ho deciso di sposare la pizza e nessuno può impedirmelo Mi sa? E' una donna donna che aveva già fatto una bellissima decisione Soprattutto se c'è il tonno sulla pizza Perché tonni belli Ma quello è anche più belloso di te Tu sei belloso Cosa che è belloso O un'auto Si invoca la saretta Vediamo se vede E' più tardi Grabi, grabi, grabi Sì come se mi scrive ste nomi Mi ropa in secondo che non puoi pronunziarla Che cosa? Tenevamo un igodi che si chiamava Gabri Una veste Guarda Miralo, miralo Miralo L'amico di Caleb, no? Ah, un altro bufo Sei l'amico di Caleb, no? Sì A ver se oggi non devi studiare A ver se oggi Caleb viene a giocare contro il mago Sì, non sono belle, no? Musica Grabi Oltre avesse Ma tu Sì E lei onora ti conferma che in fondo a destra Della tazza dove è C'è la porta di uscita Che cattiva che è Che che Io non gioco ragazzi E' troppo Super handicap match Io non cuoco E non super handicap match Non mi chiamo Grabi Chi ha detto Grabi? Io torno sulla pizza sempre No, super handicap match No, no Io quando hai visto No, è Matteo tu e un altro Matteo tu e Blake Blake Non ho intendo questa frase Però no Super Che che Hai spinto la switch Matteo, bravo Invece di salire il volumine Volumine? Volumine 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 In italiano È mai difficile Che che Omar Sei inguardabile Con la O piccola Omar Omar vero è? Da quando? La O piccola è Un incitamento È infilarsi una penna Negli occhi Anche se che che Lo fa per una cosa estetica Che che non può? Non ce l'ha la K maiuscola Bella Dove che hai visto Stella nella Valle Polpo Ah sì Cosa c'è di speciale? Lo farei un cazzo Per di Stella Deve avevano un colpo La mente resta solo di Minecraft E di Crazy Justice 1377 Numero 1377 Igo di 1377 Vale Ok Vale Victorin Ti puzza il culo baby Sì Uno perché ha pagato la Switch Sin querer Soul Are you here? Do you play? Io solo accompagnate E' mio no Guarda Omar Oh marzo Ma ce l'hai Marco E' quello bello? Per quello bello no? Hola Si state chiedendo cose di scuola Non ci credo Che belli che sono Sti secchioni Siamo contenti proprio Siamo contenti che non dovete usare altri medici da comunicazione tranne il nostro chat in YouTube Cristiano Cristiano No Ma che pardon? Era per Per dire Mamma che No Con Marco Che che? Te chiedo Anzi si asia Ma come hai fatto Marco? Che tristezza è sergi a rango X Non ho obiettivi nella vita Eh Non si può tipo Come sei di te sto te Resettarlo No A fermo se vuoi stare sul rango X E' uguale a uno Su quello che se vuoi comprare Che non gli era Madre mia Ma è una persona famosa no? Frank Zappa? E' famosa no? Chi? Non so Di quello che si merita il rango X Ah è Gianni Morandi Gianni Morandi c'ha le mani del rango X È che avete Non lo intendiamo Sadri Però siete molto divertiti Due 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 Che che capri Boom 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 Oh mio Dio è vero Frank ha messo un cuore Ma cosa sta succedendo? Oh mio Dio sembra una donna Marco Stai vivendo da solo Un bone Ma quindi alla fine Alla fine Questa è un bone Marco Non lo so Loro sta lo facendo Marco sta importando un po' Un po' troppo ill'onora Call the recording I think Meaning Splatoon For me So I'm gonna give it a try Ah Può essere che Stai allì In la plazza Dando con il suo fondo Sobre Argos Eh? What do you mean By recommended Is Is Colli There Giving suggestions And advices Or something Because we We really started Splatoon Ma quindi Chi c'è in piazza? So who's there? Colli Gravi? Lecce Per essere Argos Bisogna avere Ah Iscrivete Ed io ero Ah Wow Ok Ok Capisco Marco Mio padre Mio padre Approva il mio matrimonio Con la pizza Come Come Gabri 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 E' il buffo Antes no Ah Però vai al tipo Tengo Entende Io Io A buscare Scusas Io Empezamos Con la Scusa Vale 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 Vamo Sempre Vada Si tiene Todas Lo Buenos Aqui E' vero Marco Che Brutta Cosa 87 12 Colli Is In Octocanion She Gives Advice And Tells Your Record Ah Really? Wow I'm Afraid I Should Not Go To Visit Her Doc Should No Entra Entra Una Partida Si 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 Victorin Io M'ho Comprato La Computeradora Che Hace Los Equipos De Splatoon Perché Inviato Alla Nintendo Un'email Di Cio So Lo King Della Bufu Io Tengo Un Accompagnato D'Ubufu E Sto Mi Inviarono Il Programma In Tasi Ti Voglio Poner Come Spettatore Ora Bannate Quell'uomo Matteo Non Parlare Mai Più Cos'è Cosa A Chi Però Il Mio Unico Amore E Buono Che De Una Persona Speciale Come Si Sa Esprimere Marco Io Così A me Quello Che 21 Persone Ne Manca Uno Per Giocare Però E Stagate Qui Con Nostro Carl Oh Ale La Prima L'aspetti Tu Perché Siamo Tutti Igodi Scusa Ma Che Si Hai Scusa Non Non Tiene come Sclavo Yeah Money Bitch E Money Este Este Secreto Dello YouTube Come Sclavo Si Jessica Ora Sta Enclavada En El Suelo Che To Lontro One sniper only please Yeah I also have that thought sometimes, but maybe you're asking for too much right now Oh no, 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 sembra bene per te, soltanto Quien se queda ultimo E tutto questo Però questo non è l'importante Si lo di quien se queda ultimo Bueno, ci aiutas, e ci aiutas geniali A noi ci aiutas un favore enorme Allì sta E anche se è un esclavo Come molto sta iluminato E mi ha interrumpito un po' E sta parlando con Karl Grazie Karl, di nuovo Con questo ci aiutas un favore, perché sai che ci aiutiamo un montone Rappito che non è l'importante Mi è muerto come una... Eh? Doc crushed my dream team De sol Così li chiami Eleonora? Lei è Eleonora si dice Nianchan? Non so se ho detto bene Oddio, guarda il mio capello Ma dove? Cosa è successo? Cosa è? Eh? L'hai fatto con un tono d'aggressività E no, Biel Vai! Docchino Da Fanta Mando i baci alle mie Fanta È buona questa È buona questa È buona questa È buona questa È un buon troco di parole Guarda che buono! È buono che educino È buono questa È buona questa È buona questa È buona questa Ok, ho capito. Quindi non la chiamano così. Rimanerò con patatine. Patatine? Ho sentito patatine. Oh, granica, bobo. Patatine? Oh my god. Deine Eltern hanno den ruoti ausgesteckt. Ostra vendetta. Potresti vedere se l'internet è vero. Sei un siciliano con una coppola. Date una coppola a quell'uomo, a quel calamaco. Ma vaffanculo, vai. Te lo dico con il cuore in mano, ma il tuo cuore in mano. Bella questa, eh? Ti chiedo perdono, con il cuore in mano, ma è il tuo cuore che è in mano. Molto bello. Vai, vai. Intenta, Adri, intenta. Figlio delle patatine. Legends. Diccio che non gioca, che ha un po' di mal di pancia oggi. Eh, il cagozzo è quello. Quando inizia a esplotare merda e destra sinistra. È triplo merda sopra ogni cosa. Ha finito la vocale, ha finito per favore. Allora, basta, basta. Un po' di contegno in quest'uomo. Legends. Speriamo che ti migliori presto. Sì, sì. Maco, ti ho fatto vedere la morte in faccia. Oh, oh. Frank, Frank, aspetta, aspetta. C'è un altro qua, eh? Ho esperato Frank. Ovvio. Ma non è che ci vuole tanto. Non è vero. Ho detto, quando vuoi vedere... Non voglio dirlo, ma è come il sogno. Quando saremo da soli, se vuoi, ti faccio vedere. Un maco. Bon. E se vuoi ci metto anche Frank. Non voglio verlo. Da solo contro di me. Cioè, i loro tre contro di me. Ma tipo, posso stare l'espertatrice? Eh, fidati che non mangerò quel giorno. Per mangiarmi anche le loro ossa. Guarda. Ma avete sentito, ragazzi. Lol. Ciao, Legend. Dogma per giocare online su Minecraft per la Switch. Avete fatto l'account cosa? Sì, è chiaro. Abbiamo collegato anche Twitch alla bolletta della luce del gas. Hai capito? E invece l'Apple Store con i punti del dia. Ma la prossima ricrei, no? Sì, è chiaro. Adria. Sono qua per ricreare, eh? Io ricrevo, procrevo. La prossima la faccia nuova. Sì, sì, sì. Saltami contro, saltami contro Frank. Vieni, vieni. Chi è? Chi è il tuo compagno qua che vuole morire qua? Qua, qua, qua. È Mako, è Mako, è Mako. È Mako. Ci siamo, ci siamo. 3, 2, 1. Boom. 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 Mako, devi morire però quando sparo, eh? Eh, dai, per favore. Mi devi fare... Oddio, oddio. Cricetto bomba. Cricetto bomba. T'aspetto. T'aspetto. Non ti preoccupare. Ciao, Legends. Ce n'è per tutti, Legends. Boom. È un doc incontrollabile. Incontinente. Si fa la fibbia addosso. Ora recreamo. Abbiamo preso cazzo, vedi? Alla via. Non entrerai perché si fa nuova. Supri, come uno skater. di casa. Quindi, a Gabri, a Rex, e non so chi è più che stava aspettando. Però non hai bisogno di recreare. Chiaro. Oh, un attimo. Gesù. Non ti deixo nemmeno riuscire, pobre. E io ho collegato il sniper. 3, 2, 1. Sarcappone. Codice. Pa. A, B, C, D, E. Pa. Pa. Ta. 7184. Come in anni. Ricordatelo. Ma mi rispondete? Avete collegato l'account di Xbox a Minecraft Switch? Scusate, non ho sentito. Abbiamo messo anche un dispositivo che se loro tentano di aprirmi la posta elettronica da Gmail. Hai capito? Hotmail inizia a sparare Kbyte su Twitch. Tutto incastrato. La risposta è no. Che cazzo te lo dico a fare? Contra la domanda. Ma che è il cappello? Non l'ho visto. Si, vuoi arrebentare. Grazie a Scarl. Aprendiamo su Monton che sei stato attento. Marco, Marco è un buffone. Marco me lo mangio. Te lo ripeto. Dispacco le asticcele della K. E me le mangio. Le due aste della K. Più forte qua sono io, ragazzi. Che c'è? Luca? Andate tutti. Luca, sei riuscito ad entrare alla fine. Ci stavi provando da... Ma l'hai visto? Bravo. Il portier toccarli. E questa come è la nuova non sperarà meglio. Io spero. Grazie sicuramente. Adesso gli rompiamo il culo a questi qui. Ehm... Va, le mani altri. Tranqui. Dai, guarda. Guarda come andiamo a mangiarci i due buffoni insieme adesso. Guarda. Preparati. Guarda. Pum. 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 Ok. Bubu. Aspetta un turno. Bubu. Vuoi uscire ad aspettare un turno? Por favor. Lo dite anche in francese. La francese? Che cazzo non so mica la francese. Vai. Loli. Frank. Facciamoli vedere a questi due stupidi idioti cosa abbiamo in servo per loro. Oh! 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 No, no. Tu e... E' il tuo amico Grabby. E' una C! Cos'è una C? Grabby. Capri? 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 Non lo leo, è molto vecchio Igo di Sara, Igo di Mako, Igo di Duca Non lo leo, è l'unico nome che non leo Che 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 hvor Ieri sera me sono addormentato adormentato ma ci stiamo chiedendo Le due nombres a ver Igo di Omar quale mi no mio insomma iıyorlar con mio ombre Quante ora la vedi Chi siamo? Omar29 che 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 è Eh, abbiamo che com'erlo, com'erlo, con patata brava all'orno, documentos, forza Napoli! Alla fine, una domanda, hanno fatto quello? Va, dopo ci parliamo. Ah, vale, stai lì. Credo che potrei stare un po' di rata con voi, però mi devo andare a fare una corsia. No, Marco, boom, prima. Va, Ricard, grazie. Grazie. A ver, poi poi facciamo, no sé, oggi, che facciamo? Oggi? Si. Jugamos. Jugamos, quindi noi riconosceremo in qualche momento. Un abrazo a ti, Carl. Nooo, Marco, boom, che c***o che hai! Il 1.3, sì, quello è, no? Vai. Ma... Finchia, vorrei vedere il giusto come spettatore. Boh, boh. Ma, eh, Frank, ci sei? Non lo so, eh? No. Nooo, Frank, sei cresciato. Sì o no? C'è, c'è! C'è? C'è? Ci mette un voto, no? Guarda, ma la goba o sbaglio? Eh? Non lo so, dove si sa. Guarda, beh. Boh! Ma... Ma... Non ho fatto una kill. Oh mio Dio, già... Come te ne devi andare? Già te ne devi andare? Chi? Omar. Oh! Omar o Matteo? Boh! Matteo! Se devo andare a Matteo. Ma dai! E' prestissimo! E' prestissimo! Abbiamo fatto prestissimo la live! Dai! Dai ragazzi! Ce la potete fare? Pumpe, ciao Matteo! Va dopo! Nooo! Questo buffo! Tra un po' sarà un aggiornamento che unificherà tutti i server. ah ma questo è già più interessante non lo so no mica sono tutti ma c'è frank e più interessante no o frank c'hanno chiusa a tranquillo dai matteo a dopo e leonora la cosa divertente che mentre guardo più che altro ascolto la live ok sta giocando all'uno di quei sparatutto rosa e fiori a k far cry five e la differenza tra questi due giochi e minima come minima non sapevo che c'erano altri giochi così come si chiama questo non ho capito non ho capito che fai un altro con questo codice? è... sì sì un altro no? sì eh che mirore ha chiesto un momento questo può essere... è il 7 no no gabri grande grande gabri in serio S Jaime perdona che lo stavo buscando non si è il S ma è il S fa una cosa più e la seconda è la cosa più una cosa più madre mia non ci sono giocati qui eh ok Matteo tranquillo eh... frank dejamo che ganen ellos per favore ragazzi facciamo vincere Marco e Gabri per favore perché... sennò poi cambiano youtuber chicos dejate di ganare per favore Gabri e Marco così non cambiano di youtuber vale io ho esplastato solo duca ora eh no? ho visto a Gabri e l'ho dejato vivere sì vale vale bravi 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 bad gang guys sì leonora è la prima cosa che mi è venuta in mente solo che voleva stare un po' ancora dietro della chat ma adesso il nome mi è rimasto in testa e questa notte proprio lo cercherò allora duca e omar ok non è vero Fanta ma non è vero proprio vero ma alla fine è eravata in tre o no? perché dice Frank è eravata in tre o no? no 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 mi sa che non ce l'ha visto non ho la minima idea chi è Alessandro ragazzi chi è? chi è? chi è? chi è? aspetta no dovrò assolutamente perfezionare questo capello lo amo ma questo è una forma parte del nuovo abbigliamento si vede già chiaramente boh ma perché questo? eh? ma cosa vuol dire scusa? eh? ha intanto tre ah Marco sì sì Jaime come? ti rispondo per Marco tenia come del doble del necessario in cada cosa ma basta ma basta Saretta ma dai non dire cavolate basta come due ore e mezza come due ore e mezza nessuno ci crede Saretta Sasi dici che lei è bella con che nel giorno metodo dura due ore e mezza no? oh mio dio no 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 diretti con la chiara lì no? mira come sei vestito dice che 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 tutti vogliono guardare in le nuova ropa mira è è vero siamo siamo vengito no vengito oh Allora... All'attacco! Ciao Milo! Come stai? Hola, hola, hola! Questa è il tuo gioco! Apporto... Apporto, che dici? Che ti hai detto, Vittorin? Io non mi ero enterato! Che ti hai detto? Un pezzo di capri! O la Splatunatic! Ma poi alla fine tutto questo abbilamento, queste cose... Guarda, guarda Marco! Ma voglio vedere... Ma sono già arrivati? Non capisco come hai i capelli, voglio capire... Non so cosa capita con i capelli, che se hai questo pentinato... La porti qualcosa in testa? Già finita, Saletta! Ed è sta! Si? Ma non ha avuto un senso sto gioco! Eh! Marco, è buona torre a Marco! Non ho fatto nulla! Ma io neanche! È iniziata... Mi ha ammazzato una volta... Manco come una bomba... Finita la partita! Anzi... Anzi... Adesso dopo mettiamo... Mettiamo... Come il codice della stanza mettono un numero simbolico che vuol dire tante patatine per la gente! Quindi, 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 quindi... E quindi, quindi, quindi... Si è spento il cellulare! Ehm... Come... Ehm... 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 E sta bruciando! E sta bruciando! E sta bruciando! Noi... Hai visto cosa ho scritto? Mirà! 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 Siete quattro! Siete... Siete quattro! Siete! Quattro! Dove cazzo è la ruota? Eh... Mettere il telefono in mezzo ai Joy-Con e fingerò che sto giocando io! Ma perché? Perché la batteria scarga Ma non ha senso Dai Guarda se ti Non so Si fa sentire meglio Sì sì vai Adesso ho letto Perché non aveva letto quel messaggio Ma il mio cellulare mi sa che non mi è comparso Abbiamo solo una moglie Solo una moglie Abbiamo solo una moglie La moglie di Tibor Hai ragione a cosa si riferiva La moglie di Tibor Abbiamo solo una moglie Solo una moglie Abbiamo solo una moglie Io sparisco un po' perché devo dare fuoco alla casa Ok tranquillo Ricordati che con l'alcol brucia solo fin quando ci sono i gas Abbiamo capito Dai Eleonora A dopo Divertiti Chi è che ne va via? No E non era E non era Come una sfilata No Sareta A giocare salti Divertiti 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 Ciao Ciao Doc don't forget I'm gonna teach you a decor lesson We won't forget Sol Of course We have to make a meeting in Ego D World all together and Start furnishing And start furnishing Whatever the sound Whatever the beach I've been in I've been in I've been in I've been in back for God And check back Bella raga Danilo Ciao Ciao numero 600 Si posso dirlo così Como sempre Saludate Mamma e nonna Mamma e nonna Mamma e nonna Saludale Sete su youtube I love Divertiti Mira que acusación más grave Doc no se atreve a jugar en el bongol gol No es Que desde el principio no te ha gustado Desde el primer momento Pero si es mi juego Hago lo que me sale De alma Sono io il youtuber Eccola Bufus Doc ma quindi Si sa Quando esce Quel gioco Meglio di Fortnite Guarda Secondo Secondo Quadrimestre 2018 Si parla tra Maggio Giugno Danilo sta Dice c'è una macchina Che fa cusco Mamma mia Una nuova Alto Che fa gus 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 Scemo Scemo Il codice è nelle patatine Le patatine sono fuori al codice Fai cosa vuoi L'importante è che non mi parli più Ma di nuovo Ma chi Alessandro Chi sei? Alessandro Tu che stai giocando? Alessandro Koshina Dimmi tuo nome E ti dirò chi sei Alessandro Sei Lost Prince Lost Prince? No Ogni tanto si blocca la live Si o che? Quello è il problema Milo With the friends Big blue Bang E quindi 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 E quindi Quindi E quando 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 Reaction No Può essere oggi Può essere domani È sempre il tempo di una reaction Vittor 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 Ese Vittor Ese I wanted to play No Ojalá Ojalá Mamma mia meglio solo che mal accompagnati ok you just changed an Italian saying me stai guardando questo meglio solo che mal accompagnato meglio solo che mal accompagnato meccor solo che mal accompagnato ya se las armas no, ya se las armas la sepa la sepa, la repa no? la repa sta molto buona e la sepa e la seta shish oggi ho mangiato spaghetti con le vongole stai giocando a mongol gol mamma mia io non ho mangiato spaghetti dalle mongole dall'ultima volta che abbiamo pescato le vongole del pacifico era il 1276 io ero con la ligna la pinchia e la santa la ligna Sara? 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 Sara sei bellissima così ma metti ste vongole nel gestino per favore io volevo fai me Ale eh? finchè Ale eh? la vita bella finchè? non cagli come la pecorella ma non dovete andare a scuola no? Marco cacca pallini la pecorella fa la vita bella la pecorella Marco beh spara cagata destra a manca vale territorial cubo e pintazona sbrocia terriptorial colino te ne hai super planificato Io scasso in classe Anche pure su whatsapp E sei la seconda persona che ci dice questo Già similare L'importante è che vi ricordate di dire Che lo dico io sai Mettete il copyright Mettete il copyright come lo faccio io E lei quale faceva? Faceva il Quindi 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 eh? E anche Gus 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 mi sa Para el Splatoon Splat Fun Ah è che sto molto lejos perdon Ah para el Splat Fun Triple K con un bel rischianto Ma cosa stavi facendo Saretta? E si può sapere Chi sono gli ultimi due? Sara e Alessandro Sara e Alessandro Che ora scusami Ma che ora è Che non lo posso perdere L'ultimo spettacolo Fino del mondo Bravo Cocco Bravo Sei l'unico pappagallo che riesce a cadere Anche se è capace a volare La festa di Ziana Sara che faceva la fashion blogger Mi stavo vongolando Mi stavo vongolando Sara si stava vongoleando Ah no come si è in spagnolo? Freno Se volete il nome Ah si Freno io esco Freno Bravo Cocco Continua a farlo dai Ti infilo il becco Ti piego come una valigetta Cocco Raga ma che ora mi consigliate? Voce del verbo vongolare Io ti consiglio di prendere Però non sei capace a usarla questa Perciò potresti provare a usare Ascolta lo youtuber Lo youtuber ti segue Schiaccia già? Ma cosa? Mamma mia mi ha spaventato Mi ha fatto un scherzo Che arma mi consiglia? Stella? Eh io ho anche curiosità Ma mi sa non so Non ho un buon presentimento Ah vale no Qual è? Pintatonas? Ah già già si è lontata Lo sai è vero Pensavo che ugual Conseguiria Come si dice Asustarle E che si fuori Eh ma hai che Moverte hacia delante Eh hai che muoverte Che stare ferma Alla parata E con il pin Raven Che sue Che sue Creo che vi faccio 3 volte 3? 3 solo solo tutti questo non me lo speravo ma sei un po divertente spazzami di più Frank tutti abbiamo la stessa domanda per Danilo Danilo ogni volta parla al femminile quindi o c'è una lotta interna o è una femmina o è il correttore che corregge sempre la femminile non lo so troppe paline qua troppe paline troppe glicerie comunque Danilo se se si sono già cotti mettili un po' di limone sopra e mangiali sono buoni perché faccio così? ha detto che ha comprato i pesci alla fiera e ho comprato i pesci leggimelo che così mi... ha comprato i pesci alla fiera e è arrivata a casa e sua madre gli ha messo gli ha messo i pesci nell'acqua calda perché l'acquare aveva l'acqua troppo calda rispetto alla temperatura che i pesci volevano e appena li li ha messi dentro sono morti e quindi carpione tutta la sera stavo fuggendo di quel pesce... come si chiama? il cane bomba lì il compulsivo adesso non sto cercando di usarlo come vedi? brava! brava! l'ho detto proprio bene l'ho detto proprio bene troppe paline troppe cricetti ho preso una corta io dico quella che mi passa per testa no! no no noi siamo anti bot e pro sasi zero bot per sasi e poi il gatto ci giocava con i pesci morti vabbè ma i gatti sono sadici lo sappiamo tutti quindi no io penso addirittura ti dirò una cosa a Danilo penso che è proprio stato il gatto a mettere l'acqua calda dentro all'acquario per vedere morire pesci lo sai? non morire no te mueras ho quell'impressione grazie allora Adrian la contrassegna puoi deverla perché ridono tanto? alla derecia che cosa sta succedendo? la contrassegna che? devo spegnere la switch sorry chi? l'audio sempre ogni giorno di più questa ragazza che? no la tua amica Saretta la tua amica Saretta devi rì che rèè è questa eh? che hai fatto due sì la prima era rispettatoria e la seconda eri... di una retriccia alla, però come pensavo che non mi viva matar pensavo che mi viva in palante e poi mi disparo è una esperienza bellissima ah bu bu che cos'cruzzo sopra gli haters suprim con me uno skaters suprim con me uno skaters suprim con me uno skaters skaters e credo che ha sido ganata questa partita ha sido lo che ha sido nos abbiamo divertito ha ido come ha ido ha ido ah no! abbiamo perdito ah che bene ricrea Bufu 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 non sia altro Bufu non sia altro allora ma non sono stata ultima vero? vabbè tanto di regolare ricrea e procrea il meno possibile così disse il nostro amico però qui non parla è una bitch eh no il codice il codice è il codice è il codice è nelle patatine 78 96 78 96 T-Bone Sprinkles questo è il nuovo messaggio T-Bone Sprinkles che sai cosa vuole dire? Doc ora non smetterò più di dire se vuoi sentire la battuta me la vuoi sentire? che devo fare? T-Bone caga spruzzo lì 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 ti ricordi di me Doc? ho Dio oh mio Dio oh mio Dio no, non ricordo io ne ho anche io non ho sai ma io se ti sento sono fortunato o fortunato per che cosa Danilo? oh mio Dio Cosa era questo? Devi partire, Jay! Ma perché? Scusate! Sorry! No, è un passato. Toma, guarda tu. Io sono un spettatore volontario. Frank? No, non lo contesta. Ah, non lo contesta. Non lo contesta. Ah, sì te lo dico. Ma questa è l'arte per la life. Alessandro ti puzza il cubo. Cubo. Dice cubo. Il cubo di Minecraft. Ola Uri. Alessandro ti puzza il cubo. Dai, finisci la fanta. Do che non hai capito. Quindi, raga, dai, facciami serio il favore perché sennò qua finisce male. Stasera moriremo tutti. Sì. E dici la patuta, sai? Sì. E dici la patuta, sai? Dica duca. Dica duca. Dica duca. Dica duca. Dica duca. Iniziamo. Randomly. Vale, mal. si lo sappiamo si spaventati tutti e dai grande fantino tutti si stanno animando oi milo andiamo a vedere a milo che è no così non si fa perché sempre che scorreggia matic ti rende la sagnola ragata dica duca aspettalo sol dico duca dica duca es gabriel dica duca ciao yuri ciao come doc si diverte meglio so che male accompagnato no non è morto ma quando non muore vai fino a che non muori patatine patatine ma non lo vedo bene doc già sei tu nuovia no no è mia mia cir dew fundina la incontrato per jacarこ stato despertato dormendo Pobrecita, dice... Pobre... Le doy un nome e... Vamos a verlo E così è terminato la storia E da questo giorno sempre sta qui nella mia casa e mi occupa della mia figlia me come la mia comida me beve la mia acqua Si fa lì dire qualcosa su di me Please Don, non ti copie a te stesso Oye Oh Il mo' gatto ha ucciso il pesce Ah Ah Ah, che significa? Ui, come va? Va ganando l'equipo del jugador Ah, sa, si, no Ah, per quello, ah Ah, sa, si, no Wow Posso parlare con un mio amico giapponese? Aspetta, giapponese Hello Oste, che bello Soul And soul Ohayou Ohayou, vatassino Yujin Boom Eh? Ma come porti i capelli Devi dire Bella Sono tornata Mi sono chiusa in bagno con cibo e acqua Ma cosa vuol dire Leonora? Ah, che no Se copie lo del traduttore Perché se copiene chi è? Che si hanno inventato questo? Google Bentornato qui con noi Eh? La tecnologia Però tu non puoi aspettare Tu devi rispondermi Eh, ma io che so Questo è per cui guardi il basket Sì? Per portiere, per portiere Per portiere Per portiere Ah Ma ora mi utilizzo un traduttore Si ho usato un traduttore Io ora mi usco un traduttore Ah Ah ciao Marco Lero hasta pronto yeah che dice comunque mi insegnio Peter Griffin al español però è qui casi nadie entiende nada no te sento solo Victo vitto come fa ahah alessandro che no oi che non senti alessandro per favore guapo arm guapo che tal si però Sandra esta funzione se l'ha inventato una grande empresa multinacional oh poverina, non dirlo dai come? ma io lo faccio già hace 10 anni non dirlo, magari si, è vero però prima aveva di fare prima era un altro prima aveva di prendere la... tu non usava il google traduttore aveva un programma differente che sia la stessa cosa non riconosci che sia un'altra voce? no sono nel mezzo delle bombe che faccio qua? perchè sono andato là? grande grande che mi fai iniziare benissimo la partita no dai io devo praticare in silenzio splatoon mi sa no no ma di cosa si tratta? ah dimmi schia molusca questo è penello ho una nuova auto che fa gus, gus, gus quanto freg di nuovo? Jaime, la prossima e tenemos che riempisare la... la rum no te preoccupes questa è una nuova auto che fa gus, gus, gus mamma mia come divertirsi male con il traduttore veramente veramente ma perchè? che? che è? che asco per favore che asco per favore no no come se non mi frega niente che è dai dai vediamo e non sta andando bene? sta partita no? e quindi 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 quando? 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 Da dove viene tutto sto colore? E quindi, quindi, quindi E quando, quando, quando Sì, sì, guapo Credo che lui è così No, non è tanto tardi Non è tanto tardi Ma sì, vabbiamo a servire il diretto Un piccolo diretto No, la terza lo togli Eh? La terza lo togli Cosa vuol dire? Rangeli Ma niente che sia Tutto sono lo stesso Ostra, questo è la peor partita di mia vita, creo Ma la peor partita È in mia vita Di tutta mia vita di Splatoon Sì? Lo dico con certeza Credo che la gente si va a servire a stare al partito Deve uscire? Deve uscire? Sì Nessuno sa il codice più Pum 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 2-2, 5-5 2-2, 5-5 Sai che entra in tal cosa? Oh Victorin Un abbraccio No, siamo pronti Ciao Victor Ciao Victor Siamo pronti No Sandra Sandra non si può passare il numero Il codico Se intende il codico Il nostro codico sta nella descrizione Nella descrizione del live stream Puede avere il nostro codico Il numero della switch Soprima Soprima Un concerto? Pintazzona, metti Pintazzona, no? Pintazzona, si? Ya, parto? Ya! Chi ispetto? L'ultimo? Povera Fanta! Una volta che va la connessione Doc, Frank mi bolizza, lo bagniamo Eh, lui ha detto no, va bene Ah, ma questo l'hai detto Ya! Sasi, ora mi distrutto Adesso ho paura Scorregge gratis Questo è il mio pensiero Ok Stai con il marcador fino Io continuo con questa arma tuya Non so perché la uso incondizionalmente Però non so perché Brava, Calamaco Doc, aiutala Ma sai che ho già visto scritto da qualche lato Cala... Tipo... Calamocchi o qualcosa Si Dammi il numero del telefono del mobile Perché il mondo pensa che sia una città? Vale, allora 795 42 42 Da 9 queste Eeeh... Orange eh? Eeeh... A- Basta che la... Hey... Come è? Non capisco Dios che susto mi di con esa voz Non c'è nessuno Ando Non c'è nessuno Ma come porti i capelli? Frem ti ho splatato Non c'è credo possibile Ma no No ma Sei italiano spagnolo No ma Perché? Repite la versione, è vero? Scorregge gratuito Ripetelo Eh sì guarda il giapponese sarà venuto a lasciare il like come sempre se ne sarà andato Ma Non li hai detto Ah no Pensavo che l'ho messa anche in giapponese Non No No Non stavo dicendo Sapete ragazzi No 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 Non mi piace mettere la cara perché non sono un personaggio pubblico No 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 E' un po' di divertimento per i miei amici E nulla E' un po' di divertimento per la sera E' questo No Come è stato possibile? Moltissimo Come? Io stai ero già in aria questa volta non so intensa questa partita ragazzi ma cos'altro da te wow vivi tu novia no 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 perché in serio no non tiene un sentito ponere la cara a chi intende che cambia ma no ma poi di spesso che tu vuoi è un personaggio pubblico cambia un montone perché io non voglio essere un personaggio pubblico e niente mi accerco a nulla di questo ma sono sicuramente acostumbrati a che la maggiori lo faccio così o Danilo Danilo o Coletta non so se Danilo il cognome Coletta il nome o al contrario quindi un saluto a voi a voi due ci vediamo prossima sì sì ciao Danilo anche da me e ricordati di pisciare sopra gli haters prima di uscire da questa stanza no piscia sopra gli haters io De Maior voglio tenere un canale sakina 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 dove sakina dove no lo sto dicendo falda da prima devi leggere lo sto dicendo che li manca magari si facciamo invocazione ma sakina non ti chiede veramente quella storia non lo so io sono sempre discredente ma non so fanta che c'è ma come questo scrive sakina e risponde Danilo fanta che c'è e magari s'è What the hell is dreamman buunto. Attila. l'aspirato che os ha caído, meglio sandra toma, toma, toma tu perché mi rompe? chi era? fai a te, Adri che? io e... no, tu no, assolutamente guarda un nuovo no, chi era? non mi ricordo se era Adri o Sasi qualcuno si ricorda? Sasi o Adri o se... accordai se è l'ultimo vi ricordate se eravate l'ultimo? uno e due io no no, Fanta stava aspettando ragazzi era spettatore Fanta boh dov'è la ultima per Gabriele ok perché si è cansato chicos, era io me c'ho fuera ah, vale, Kuma vale vale, vale cosa c'è domanda? tranqui passa, passa è brutto è brutto ampio volare o cantare e come macchino già porti i capelli bene va benissimo così os gusta il gatto della foto? mira a Jess le gusta un monton a me me gustaría un pochino mas a l'orno con patata spero gatto ah vale il martes lo tenis classe vale vale no tan dramatico tampoco bufus ma perché non va? no 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 dopo a mio gatto non se lo come nadie no santa io non le dejo comere il gatto non ti preoccupi tanto tenis che irà a dormire no? amanda amanda hola amanda quanto tempo? ma è amanda? sì no? sì ma l'amanda che avevamo qui? sì prima penso no? sì sì ma è chinesa come che hai scrivito? ah è andrew ma perché andrew sta scrivendo in spagnolo? impari il spagnolo andrew? aspetto di no? è a rex sì so che è a rex quindi prima ha detto che stava studiando ma chi è che stava studiando spagnolo? eh Fanta ha studiando spagnolo Cucchi ma chi è Sakina Kumpa? non so chi è di Fanta? Fanta lo sa? sembra? sembra che si conoscono così tanto bene eh eh buono poco? vai finito quello della sua risposta no no non fate le teorie io studio spagnolo e quest'anno credo che verrò... ma com'è possibile che stai ora e ora in nostra live e non stai migliorando? mi stai mettendo a prova la mia convinzione che questo potrebbe funzionare quindi è meglio di no. come cazzo se è possibile scrivere spagnolo? eh ma non mi ha risposto... comunque quello che ha scritto Andrew non si scrive così eh ragazzi che è un faio gravissimo scrivere quel verbo così... è una pugnalata degli occhi ma mi fa capire che sta imparando spagnolo perché neanche un traduttore lo scriverebbe quindi tutto è buono tra i quelli ci 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 sono? hai chistes come quello del cubo e che po' o no in fin... Gabriele un abbraccio eh e grazie, grazie per passarti Adios Gabriele I will still watch I'm just gonna leave game So nice So nice that you continue to watch Obviously not that you go See you later To Minecraft For Minecraft Oh my God Oh my God Nintendo Labo Tomorrow It's the program to register the music That's beautiful It makes sounds like analogical That's a YouTuber bass Mira Yo sigo un monton Un monton Un monton Un YouTuber Che se liama Igo di Jazz Un monton Si E yo Uno che se liama Igo di Doc Al quadrado Wow In serio? No In serio No In diretta Gesù mio che stai sulla cucina ma mi rifiuto di togliermi il capello e magari ma dopo un polipino bene per no come si chiamano queste cose mi sa che crasha mi sa che crasha guarda orribile si vede già registrare questa cosa già so che guarda non ce lo sapevo nel splatoon 1 è ancora più evidente perché si va proprio ralentizzatissimo il codice è 55 ci penso secondo che succede cosa guarda su scema guarda su scema prima eravamo lo stesso numero poi logicamente questa per la segna però e questo Sandra che te vas a dormir cosa si è successo spiegami explica non è morto ne viva nell'è tempo no è morto ne viva nell'è tempo ma non è morto ne viva nell'è tempo quindi il codice ma quale era? ah quello ma che scritto mi ah che ha messo Marco grazie Marquino perché mi schismani non le gusta no le gusta il splatoon Però chissà non le gusta l'online Il modo di storia Tampoco le gusta Aspetta, prendo le patatine Ma ragazzi cosa sta succedendo? Alcuni hanno continuato a giocare Cosa vi succede? Dove siete? Ma... Non so se partire in quattro Diretamente De la Switch Non le gusta nada Non se porque Que raro Adri Bueno igual Observando un poco Jugar a tu hermano Te acaba gustando Vale va Espera un momentito Es que me parece raro Porque éramos un montón Una sala casi llena Y ahora no hay nadie Non se que ha pasado A ver Adri está Mago está Joy Chi c'era più qua? Non me ricordo Koeman Dai, dai Anni Dai Allora me cuore a petao Es que está muy raro Verdad? Qualcuno está cercando Di entrare? Dai proviamo Cosí Dai proviamo Cosí ragazzi E si Crescia 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 Estrano No? No lo vete Si, verdad? A Fanta Si es blocata la Switch Ah, no Si es blocata la Switch Nada Oh, Doc Se ha ido En el peor momento Se me acaba De bloquear La Switch Vale Doc Ayuto A ver Voy a hacer un intento Voy a irme A las fotos Por ejemplo A ver si se cae La room No? Que os apetece? Os parece bien? Si Troppo Vediamo Esto video Que ha fatto Propio Del crash Anterior Ha funcionato E qua Chi c'è? Mira Cheke Non se si sta Cheke A un Gioco Sta morendo Ya se caio? Vale Grazie Ascuma Del power Si ma così Si mi si spegne No? Ok Raga Torno Sono di nuovo Qua Quasi Quasi Ce l'ha fatta Vediamo Se questa volta Riusciamo A entrare Vamos a ver Si entramos Te va Sandra? Una terra sin codigo A ver che pasa Devo rientrare Per forza Siete sicuri? Perché Adesso Non possiamo Rientrare Nel gioco Panta Non so Se mi capisci Se non funziona Stavolta Non lo so Si? Parece che va Bien A ver Cuma Porfa Cuma Ma Quiena Via A ver Si podeis Sono Una bombina Sperduta E la switch Senza Do Premo anche Più Più Lenta i tasti Ma dai Tutto mi capita A me Dai Frank Se ne va Un attimo E andarsene Un attimo E si blocca La switch Adesso Lui torna E tutto Come se fosse Normale Come se Avessimo giocato Una partita Ma invece Cosa abbiamo Fatto Ragazzi Avete Cagato Anche voi Abbiamo Aspetato Tutto Perché Perché Si era bloccato Tanto Vale Che non Entrava Nessuno C'erano Quattro E tutto Parto Così Quando Metto Pronti Tutto Non poteva Neanche Andare Indietro Mi sono Messa A guardare Le foto E ha Cresciato La stanza Bellissimo Wow Che ditte Della Zà No Questa Conta Quante Carte Entrano Che stai Siendo Ai Chicos Perdonate Sto Mirando un Video Nintendolavo Inmempanato Perdonate Perdonate Sorry Sorry Stavo guardando un video Nintendolavo Ragazzi È bellissimo E cos'era Quella cosa Alla A destra Ha messo I controller Il controller Con la fotocamera L'ha messa così E lanciava le carte Dentro Un cappello Ogni carte Che entrava Veniva detettata Dalla telecamera E segnava Il punteggio Sullo schermo In poche parole Tu e io Sai cosa possiamo fare Con nintendolavo Che compriamo Nintendolavo Per dire Tu E io La pistola Tutto 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 Con lo schermo E ti fai La pettorina Qui Bianca Qua E giocchia Alla soltare Ah è vero È vero Perché hai i recettori Comunque Franca ha detto Che Senza doc Sembra una bimba Sperduta Un bambino Sperduta Era come Un pezzo In agua Mi hermana Acaba di Se acaba di Ir A la cama Con el gatto Todo lo tiene Que hacer con el gatto Ai me dice Doc Hemos petado Lo has tenido Que ver Todos nuestros Trocitos Volando por ahí Pero has petado Literalmente Mi hermana Se acaba di Ir a la cama Con el gatto Todo lo tiene Que hacer con el gatto 12 secondes Si Ai Estaba Todavia Concentrado En lo de antes Bueno Pero Mira Hai personas Que le cogen Un peluche No se que Que decirte De una fase Seguramente Si Cinco minutos Pi brutti No No so Si pi brutti Pero estresanti Son factores Tecnologicos Si Doc Facciamo un Ale Fatto E con Mako Hay un selfie Con Mako Deci Un altro Pero me No topo Tengo que andar En la plazuela Porque será muy diferente Ahora Todo mundo recién vestido No No Hemos perdido Ya Ciao Pierre Ciao Pierre Claro Sandra Sandra Si que hacemos Otro directo Mañana Por la tarde Seguramente Scusate Colpa Di segno Anche Joy magari l'ascolta e non la capisce perché io penso che questa persona non parlerà inglese era una maniera di comunicarsi, basta, pensa che non ce l'ha, abbiamo il traduttore non lo sappiamo Sandra, è un po' dipende del nostro dia, però al redditor di queste ora sì, se le gusta il canale, no, il problema è che se le gustava, che juego le gusta a ella? Claro, perché se non ti gusta la Switch, tutti i juegos che abbiamo sono della Switch Il Minecraft, quello che mi piace di tutti, finché non esce Crazy Justice, Crazy Justice E' bestiale, i sub scendono nelle live di... ah ma sai perché? Perché sicuramente quelli che ci guardano fare Minecraft pensano che facciamo solo Minecraft nella testa, ragione per cui quando vedono che facciamo un altro gioco dicono minchia questi fanno un altro gioco, stasera che facciamo Minecraft, ci riagiranno poi ci vedranno magari dopo un po' dicono ah ma è nel stesso canale no ma glielo pensavo a me piace veramente tanto quel gatto, i colori così, nero, nero, senape bianco e quell'altro, non senape, più chiaro anche no senape chiaro senape mostrata? si mostrata claro chiaro mia zia aveva uno così, minchia era un po' bello, 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 bello Leo si chiamava Leo dice un gatto si tirava dal quarto piano e non moriva che dices? non muoiono i gatti no lo so, l'ho vissuto sempre con un gatto no ma le alture, tu non so se mai hai visto si l'ho visto cadere da un terzo piano ottavo, anche nono no ma di casa? nono io ti sto parlando anche questo è quasi una macchina un po' si, scrivi cut fall down no si so che ten floor vedi che cadono ma ci sono anche tanti che loro poi alla fine si che non cadono bene per stronzate sue magari non sono forti vi salite salute o cose così rimani compriamo un gatto e lo lanciamo ne proviamo lo lanciamo dalla torre Agbar doc non ha detto questo ragazzi non ha detto questo non l'ho detto l'ho solo pensato ad alta voce claro Sandra bubù bubù ah io un po' io ho anche inizio per fame quindi 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 quanti quanti si fa? facciamo ancora una partita o due così e mangiamo qualcosa no? va bene basta il tonno mmmm va bene troppo col tonno col tonno col tonno no? 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 no mi gato io tambien tengo il gato a ceder la capturatora dei macchini non ce n'è non vale no vale la foto grande cattura a volte neanche vale la pena provare quella cosa vero io molte volte si perdo più tempo sparando e poi ti sparano comunque perché ti vedono tranquillo ok 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 Kuma laggiù dove? dove Kuma? ah si qua è sempre un problema in questo mapa sì è abbastanza difficile no, porca putana per subire in questo mapa tutti i tuoi compagni devono essere qui altrimenti non va a nessun lato che allarmante è è una mazza si quasi Fanta wow Fanta bravo quel marker non ho guardato chiaro gli ultimi io eh oddio io eh Adri meno male che abbiamo tempi Andrew Mako Andrew è vero l'hai detto l'altro giorno Fanta ma io anche se fossi permesso lo userei il marker però poi mi si fa noiante non so io odio lo squid bagging detto da Mako avete sentito ragazzi? fate attenzione io odio ma quello che mettiti la mia arma ma quello non è quello che è un sniper che sembra un barattolo di polizia o qualcosa così a me mi avevano consigliato quel sniper e così aveva preso no super handicap match però super Adriana sabes que si mañana le dices tu gato ha roto el poster no te va a creer verdad suena como mi perro se ha comido los deberes no 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 Jaime todavía no super queque hola de nuovo cosa vuoi dire ride ride per cuore o per què ah lo has hecho a propósito porque ya sabes que iba a ser así o por qué creo que hay que pasarse el modo historia para verla o algo así escuchando pero como la llamas tu mar no lo sé la verdad no tengo ni idea ma cosa è successo sembra stranissimo oggi il gioco non vai vero non frulla ultima si potrebbe quasi dire non fa entrare le persone lo so se non ti ha fatto almeno partire no sabía no sabía que se llamaban así kuma no me lo había preguntado nunca como se llamaban las de los platuno o sea hay una una si que está tengo entendido yo he visto una por ahí ah no es la que te hacen ver como escondida a veces como como si fuera un misterio do que arriva del momento per la mia conexione de andar en la terra de la reacción quie cuanta jaime no lo sé uno dos esperando que se caliente el agua por comer kuma guys this is the last match aspetta como si lo dirá tu adesso he visto i capelli belli sembrano corti così però ma come porti la testa maco dopo dopo facciamo una mischia nella nuova mappa e qua infatti e dove ah una mischia dice non una una mucchiata per tipo per andare da tutto per colorare non doversi penso non so una mischia una mischia i colori che bella che bella cosa ha cambiato tra l'altro doc cosa ha cambiato tra l'altro ma cosa questo è sempre stato così volevo saltare e vedersi lo ammazzavo in volo ok tanto è nostro era nostro già ti ricordi quando facevo le kill da una parte all'altra di qua ma io questa mappa me l'aveva super studiata quasi anche perché oh ah dall'altro lato eh ma per questa mappa non va bene quella di ammazzare vicino chiaro qua andrebbe un'altra veramente boh non so se puoi ovviamente ammazzare uno all'altro lato coach scusatemi solo un attimo ma c'è non lo so mi sa che la rifà comunque perché si già 4 volte 7 4 volte 7 Kate oh ciao Kate la trovi nelle la trovi oh tu che concentrato ragazzi non può neanche dire quello doveva morire quello lì sopra perché non è morto non è arrivato il cane ciao Kate la p di patatina per come patatina patatina scarabapira carabattatina questa parte sempre mi dava come me dio miedo questo sta cerrado ora antes te podias caer al agua non so per esperienzia boom e dora in poi anche nelle latina 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 nooo ah no due ciao ma non chiamarmi in quel mondo chi? ah no si riferisce a fanta l'ho chiamato gattina pucci game pucci game pucci game pucci doc pucci game pucci game pucci game boom boom ma mamma cottio lola caro dio io te chiedo mas loli 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 lola oltre a quelli già sposati degli igoli chi si oddio vi inventate dei verbi siete delle macchine neologistiche brutali scipperesti si dice accoppiare no no impare car come quando la scarsa stai zitta per favore io li trovo con la concentrazione è colpa mia ragazzi non lo so non vedo io tante tanti futuri ancora si deve essere sincerissima quindi ragazzi miei buon gioco ragazzi no frey ah macchine e che sai cosa succede fanta magari tu lo capisci come dici tipo tu macchina può essere auto per te da guidare o una macchina tipo una macchina di caffè no quindi in spagnolo macchina è macchina una cosa che funziona non so come dire odio odio questa eh ma io non so è una sniper no macchina o che fuci è meglio grazie tocchino per fare le cose che ti dico ma risparmi hai visto let's go ma mostriamo a fanta e rex chi è il più forte questo suona sfida io mi nascondo è l'ultimo questa oh bubu frank dai che poi devo andare a giocare a minecraft veloci chi è il gran king buffo ora non lo se Adri tene che cambia Danilo ciao di nuovo boom boom ma come hai fatto a resistere le hai passate in mezzo dai Marco sei osceno mentre osceno te lo giuro ah questa è una bella implementazione dai ci sta ci sta ma ma era uguale era uguale faceva anche quello si si ma che dici che prendono semplicemente macchino adesso ti riconosce da non da lontano da anche quando non ti si vede ti si riconosce adesso non so hanno messo quella parete lì vedo quelli fili di colori che li trasportano a mano di nuovo lì con un sniper che non so se è quello ah è già ha preso lo sniper che gli piace oh Kate se rimani ancora un po' qui vedrai l'evoluzione nella città perché tanto a breve è il tempo che finisce questa live e riniziamo l'altra e ci siamo ah non è credibile non è credibile proprio cittadoc non è credibile ma no fan non lo dirò mai ma baffanculo va ah 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 riempi tutti di rosa che il rosa è bello oh oh boh aia no va a salire così in saltaria il fondo non so se hanno mi sembra più europeo ehi è velocissimo eh sì ma quando si ha ho parlato ma no ma no no per favore non si è prima quella cosa a un minuto ma no non so è sempre a perdere ah boh eppure l'hanno fatto peggio ma no che tristezza io io necessito mangiare io anche chicos necessito di comer perché non ha quanto mas quindi il nostro diretto termina qui ora mismo devo leggere fanno por favore scrivete tutto algo così puedo salutar ragazzi salutate tutti così almeno vi saluterò anch'io perché il diretto finisce qui guys the direct stream close here so we start with salute salute quindi un saluto va ad adrian andrew caramaco danilo fanta frank jaime kate e live gamer family attenzione carl pero gusto gusto and sole luna and loli lola car di dio io te chiedo ma andiamo a salutare andiamo a salutare andiamo a vedere un giro un girettino piccolino un peccino passeo por la plata solo peccinito peccinito giusto per salutare guardate il nostro motto se non ci riesci con le mani allora vacci con i piedi vuoi te falda un senoli questo significa che non lo copiasi pegas grande 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 cadete capesone capesone e quindi 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 e quanti quanti quando Quindi chi è lì? Adri e Marco Ma fagli una foto a questo macchino A questo caffè lo guardano Ma proprio Come si chiama? Fieltro? Ridi, ridi, bitch Ridi, bitch E il vicino che ci sente guardate Ridi, bitch Smile, bitch No, non ho fatto la foto Smile Smile again, please Sempre verso il basso, smile Io anche so fare nello gismi Oddio, ha fatto l'occhiolino Il cileno, dite, friend Quando parlo a Carlo Modo mare Alex E' fanta Guarda, guarda che bitch Alex Beh Dove sei entrato? Adria dice Alex è stiloso Frank Frank Dove sei? Chi sono? Frank E Come? Ma come porta i capelli? Ah no Gli me la gorra Bene ragazzi Non si ti riconosce Vi salutiamo a tutti Un abbraccio Ci vediamo tra pochissimo Con un pochino di Minecraft Ma 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 Minecraft Ciao belli Salutatemi i cammelli Bye 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 bye